beh forza eh poi se io comincio così siamo a posto va bene va bene mi piace datti una possibilità di parata eh va bene andiamo buono tenuta bravo buono bravo pacca a donna oggi o si py�도 vai 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 oh così ci devi andare bravo dai pacca a destra facciamo una fatica facciamo una fatica a destra buono non ti arrendere mi piace va bene dai eh dai a destra facciamo una fatica non ci vai una non ci vai non ci vai una a destra ma che disgraziato vieni ti ha interpellato dai ultime due sposta un po' quelle lì dai 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 l'ultima bravo a me l'abbiamo finita con una parata meno male